Buonasera dal gruppo dei artisti Irpini, benvenuti al castello d'Aquino di Grotta Minarda in provincia di Avellino, c'è la mostra di Dina Pascucci, artista locale, che escono queste opere per circa una quindicina di giorni qui nel Massio Grottese. Abbiamo proprio la voce di Dina Pascucci che ci racconterà alcuni quadri più significativi della mostra. Salve, buonasera a tutti, sono l'artista autodidatta, specifichiamo Dina Pascucci, stasera ho voluto presentarmi un po' al pubblico grottese e ho voluto mettermi in mostra, mettere in mostra un po' quella che è la mia anima, infatti la mostra l'ho intitolata Made with Art, che sarebbe fatta col cuore e in realtà tutti gli schizzi, disegni che vedete sono ispirati fondamentalmente dal mio stato d'animo, quindi ognuno di questi acquerelli nascono da uno stato d'animo particolare e raccontano una storia in particolare. Questo che state vedendo in questo momento si chiama Flows, sarebbe Flussi, praticamente un po' ispirato al movimento orientale dei chakra, si vedono i colori dei chakra esplodere dalla testa, mentre il corpo resta grigio per indicare che la maschera non è tutto ciò di importante che esiste nella vita, in realtà è quello che abbiamo dentro, che prima o poi viene fuori e esplode come un vulcano, che è la cosa più importante. Infatti vediamolo, ovvio il vulcano che è erutto dalla testa. Allora, anche questi due soggetti rappresentano un po' quello che è lo stesso tema, e cioè l'anima che prima o poi viene fuori, che è la cosa fondamentale per me, artista, rappresentare, cercare di rappresentare. Qui quest'opera che stiamo guardando si intitola Soul Wings, cioè le ali dell'anima, e vediamo una ballerina, una ballerina non fa altro che esprimere la sua passione, e nell'esprimere la propria passione esprime se stesso, quindi la propria anima. Invece in quello sottostante vediamo un cuore ingabbiato, e anche se, come si può notare, il titolo è Frilo, Amore Libero, e anche qui c'è il ritorno del colore dei chakra, che vanno a tagliare un po' la gabbia e a liberare il cuore. Le farfalle sono un soggetto che ritorna spesso nelle mie opere, perché la farfalle è proprio il simbolo dell'anima, e quindi la uso molto spesso, sia per i colori, sia per la fragilità e la sensibilità che un po' mi rappresentano. Qui il flusso che vediamo di colore che fuoriesce è quello dell'energia, dell'amore che ho rappresentato in questo modo.